Gran finale a copertino per le Olimpiadi dell'amicizia. La manifestazione suggestiva alla quale hanno partecipato centinaia di bambini nel Castello Angioino si è svolta a conclusione di una serie di iniziative che sono proseguite per tutta una settimana ed ha coinvolto studenti di scuola elementare e media inferiore provenienti da 38 comuni del Salento incontratisi in 5 paesi della provincia, cimentatisi nelle attività a tema dalla scrittura creativa ai giochi nel castello, dall'espressione musicale alla grafica creativa. Le Olimpiadi sono state promosse dai 38 consigli comunali dei ragazzi che hanno partecipato al secondo e terzo raduno provinciale, dall'Unicef e dalla provincia di Lecce. L'obiettivo è stato quello di promuovere sani momenti di partecipazione attiva e creativa alimentando in ogni partecipante l'amicizia. L'amicizia è una cosa fondamentale. L'Unicef ha lanciato un progetto internazionale più di vent'anni fa che si chiama Le Città Amiche dei Bambini. Già l'amicizia c'era e allora questa loro proposta spontanea che non è stata diretta da nessun adulto di lavorare sulle Olimpiadi dell'amicizia manda due messaggi importanti. Uno, che vogliono essere in connessione, oltre Facebook direi, no? E che quindi hanno voglia di condividere. E l'altro è che l'amicizia è un modo propositivo di andare avanti. Non è competizione. Tu fai le Olimpiadi ma non conta chi vince, conta di stare insieme. E questo è il risultato più grande che hanno raggiunto. La grande festa conclusiva è stata ospitata nell'ambito delle iniziative proposte dalla rassegna Il Veliero Parlante.